Napoli, quartiere, mercato, progetto, musica e società. Noi viviamo in un quartiere dove la dispersione e il rischio sociale è sicuramente una problematica di grande rilevanza e con questo progetto abbiamo riportato nelle aule in modo significativo con entusiasmo e partecipazione molti alunni che avevano abbandonato la scuola o che comunque la frequentavano in modo discontinuo e con poco interesse. Sono un bambino di 9 anni, mi chiamo Salvatore e quest'anno ho partecipato al progetto Musica e Società dove ho conosciuto due amiche di nome Roberto e Giulia con cui mi trovo molto bene. Un'altra persona importante è il mio maestro Roberto a cui sono molto affezionato e lo ringrazio per avermi insegnato a suonare le percussioni. Senza dimenticarmi però di Auli e Daniele che sono due maestri d'orchestra bravissimi. Infine voglio ringraziare questo progetto per avermi dato la possibilità di conoscere tanti amici, maestri e per aver fatto crescere ancora di più la mia passione per la musica. Quanta amici che si mua? Noi! Quanta amici che si mua? Noi! Quanta amica che si mua, quanta amica che si mua, noi! Per cui qua abbiamo voluto dare invece un'impronta un poco meno accademica, un poco più sciolta. E penso che alla fine ha pagato, perché i ragazzini con pochissime prove, perché noi abbiamo fatto una prova a settimana e considerato le vacanze sono veramente poche. Sono riusciti a mettere su quattro pezzi in cui due professionisti, come Mario Insegna e Paolo Romano Schauhan, ci cantano insieme. Tu sei mai scettata, che hai mani e partì, ti trovi in danno un pizzo e non sai a tu fuì e dici basta, basta con questa città. E' solo miseria e non c'è stata niente a fare. Ti guardi in due specie, ti trovi a pensare, che a chi sia un momento sa vita le agagnano a paliggetta, chi li pochi sordi e vai, e niente rimpianti o sola che non brilla mai.